Sono passati in molti anni dalla fine della guerra contro gli ibridi e Jax si è ritirato a vivere come una specie di eremita. Purtroppo una nuova minaccia incombe dal cielo e finisce proprio sopra la sua casa. E questa è la base da cui parte Elex 2, gioco di ruolo con cui Piranha Bites segna il suo ritorno dopo il primo capitolo datato 2017. Vale la pena accompagnare il nostro eroe nella sua avventura? Scopriamolo insieme! Jax non è più il personaggio conosciuto alla fine del primo Elex. Gli anni di solitudine lo hanno indebolito, ma molti lo ricordano come l'eroe che ha salvato il mondo. Ritrovatosi improvvisamente senza un tetto sulla testa, il nostro protagonista deve innanzitutto trovare un rifugio, per poi iniziare un lungo viaggio per il mondo di Magalan, alla ricerca di alleati per combattere la nuova minaccia. Bisogna quindi ripartire da zero. È necessario accumulare esperienza per distribuire i punti ai vari attributi, forza, destrezza, costituzione, intelligenza e acume, che vanno a influenzare l'equipaggiamento utilizzabile, i dialoghi e le abilità. Queste ultime si possono apprendere solo dei vari insegnanti sparsi per Magalan, tutti decisamente costosi tra l'altro. A causa della quantità limitata di punti da investire, non sarà possibile acquisire tutte le abilità disponibili. In questo modo lo sviluppo del personaggio diventa un fatto davvero personale e apre alla prospettiva di rigiocare l'intera avventura scegliendo una progressione completamente diversa. Un altro marchio tipico di Piranha Bytes è la mancanza di classi vere e proprie. La specializzazione di Jax viene infatti decisa dagli attributi e dalle abilità sviluppate, nonché dalla fazione scelta. Queste ultime danno accesso ad abilità avanzate e a un equipaggiamento specifico, oltre che a missioni speciali. Si può decidere di rimanere indipendenti, ma unirsi a uno degli schieramenti conferisce dei vantaggi e rende più interessante l'esperienza. Ogni fazione rende lo svolgimento del gioco leggermente differente, soprattutto in previsione di uno dei finali. Magalan è popolata da cinque fazioni, i Berserker, le Albe, i Morkons, i Furileggia e i Chiarici. Gruppi che vivono a stretto contatto tra loro, ma che godono ciascuno di peculiarità uniche per quanto riguarda la propria caratterizzazione. Siamo di fronte a un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto, in cui ogni cosa va sudata, specie all'inizio. Il classico prodotto di Piranha Bytes, con la curva della difficoltà che parte ripidissima per poi diventare più dolce verso la seconda metà del gioco. Una struttura che ama far sgobbare l'utente per diverse ore, per regalargli soddisfazioni più avanti garantendogli via via una maggiore libertà di esplorazione e movimento. Il senso di spaesamento può essere comprensibile, così come le critiche a una certa rudezza degli elementi accessori, ma in generale chi si approccerà a Elex 2, consapevole della sua filosofia, difficilmente avrà da recriminare sulla progressione. L'esplorazione è lenta, poiché è necessario evitare di finire tra le braccia di qualche nemico particolarmente nervoso, complice anche un equipaggiamento iniziale utile per abbattere giusto qualche topo gigante. Per gli avversari più pericolosi bisognerà imparare a maneggiare strumenti molto più importanti, come un fucile all'Elex o un grosso martello da guerra. Purtroppo ogni arma possiede dei prerequisiti precisi in termini di attributi per poter essere utilizzata, con l'equipaggiamento che finisce così per seguire di pari passo la progressione del personaggio, che va indirizzata anche in base al tipo di arma che si intende utilizzare. Come al solito gli sviluppatori sono riusciti a creare una mappa aspra e variegata, costruita sia in senso orizzontale sia verticale, fatta di zone innevate, montagne scoscese, laboratori in rovina e fortezze inespugnabili. Il ritorno del jetpack assicura la possibilità di esplorare i vari ambienti praticamente in ogni direzione, soprattutto dopo averlo migliorato, così da avere prestazioni superiori in termini di autonomia e resistenza. Il senso di libertà è assoluto, grazie anche alla sapiente progettazione della mappa piena di segreti da scoprire, tra oggetti speciali, aree nascoste e piccoli inserti narrativi. Dal punto di vista narrativo non aspettatevi dialoghi raffinati o chissà quali trovate a livello di sceneggiatura. Jax è il tipico maschio alfa burbero e determinato, che si rapporta con gli altri spesso in maniera molto brusca, pur conservando una certa etica. Tutti i personaggi di contorno hanno le loro storie da raccontare, a volte accompagnate da quest secondarie da svolgere. In alcuni casi è addirittura possibile conquistarne la fiducia per poi ingaggiarli come compagni di viaggio. Sono proprio le missioni il fulcro dell'esperienza, quella principale è abbastanza banale e serve soprattutto come perno per l'intera avventura, mentre alcune di quelle secondarie si rivelano molto interessanti e permettono di scoprire aspetti sociali e politici di Magalan. Anche i dialoghi sono gestiti in modo molto classico, a scelta multiple e con più opzioni disponibili a seconda degli attributi sviluppati. Purtroppo la creatura di Piranha Bytes non è esente da problemi, specie sul versante tecnico. La versione che abbiamo provato è piena di glitch grafici e cali di performance, soprattutto nelle zone densamente abitate. Non è raro infatti vedere le ombre lampeggiare, i personaggi non giocanti perdere dei pezzi, assistere a crolli repentini del framerate, oppure a brevi congelamenti dell'azione per il caricamento di nuove risorse grafiche. Se glitch e bug grafici sono fastidiosi ma comunque tollerabili, meno giustificabile è l'intelligenza artificiale nemica, che si dimostra abbastanza primitiva. Gli avversari attaccano perlopiù a testa bassa, ma in certi casi se ne stanno letteralmente inerti, anche quando vicino a loro è scoppiato l'inferno. Se si è impegnati contro singoli nemici, i problemi di A appaiono meno evidenti, ma emergono con prepotenza quando si ha a che fare con un nutrito gruppo di oppositori. Alex 2 ha tutti i pregi e i difetti dei titoli di Piranha Bytes. È vasto, curatissimo nella progressione del personaggio, ampio nella libertà di scelta e con un mondo costruito in modo davvero ammirevole. Paga però alcuni problemi tecnici, un'intelligenza artificiale dei nemici non proprio al top e un lato narrativo abbastanza scialbo. Per certi aspetti è sublime, per altri mostra invece alcuni difetti storici che per qualcuno finiranno per essere considerati inaccettabili. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali. A cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche, per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!